buongiorno a tutti questo video tutorial è riferito alla compilazione della domanda di mobilità per quanto riguarda le esigenze di famiglia arrivati nella pagina per compilare le diverse sezioni della domanda oltre all'anzianità di servizio ai titoli generali alle precedenze la scelta tipo di posto che è obbligatorio compilarlo lo facciamo vedere si compila sempre il tipo di posto per esempio posto normale e si indica in quale priorità si vuole tenere in conto il posto normale per esempio come prima priorità ma è obbligatorio farlo altrimenti non è possibile salvare la domanda come anche obbligatoria per esempio la le preferenze almeno una preferenza va sempre messa aggiungiamo per esempio un comune di una regione come la lombardia e mettiamo bergamo selezioniamo il comune di bergamo proprio proprio scegliamo il distretto di caso esigenze di famiglia abbiamo ben quattro opzioni da poter compilare il ricongiungimento che diciamo è riferito prevalentemente al coniuge o al alla persona con cui si ha un'unione civile in mancanza di coniugio si può ricongiungere o ai figli o ai genitori se c'è il coniuge c'è un obbligo di ricongiungimento proprio al coniuge mettiamo per esempio la provincia di bergamo e il comune appunto di bergamo per così avere il riferimento del ricongiungimento nella comune di bergamo poi come dove si possono dove possono essersi i figli disabili tossicodipendenti questo si compila solamente in caso si abbia un figlio genitore comunque disabile e in cura in una data struttura in una ben precisa provincia e comune il numero dei figli al 9 che non abbiano compiuto i sei anni di età cioè tutti coloro che stanno al di sotto dei sei anni o nel 2022 hanno già compiuto al data di compilazione la domanda i sei anni si mette qui il numero dei figli con età da sei in giù per esempio 1 e qui invece numero 10 si inseriscono i numeri il numero dei figli che si hanno con età compresa fra i sei e i diciotto anni per esempio se se ne ha uno si mette 1 dopodiché a questo punto si può fare salva e la domanda l'opzione viene eseguita correttamente la domanda viene salvata in bozza speriamo che sia utile questo tutorial per i nostri telespettatori continuate a seguirci nei nostri canali social e nel nostro sito www.tecniaspora.it perché continueremo a parlare di questo tema della domanda di mobilità grazie e arrivederci grazie a tutti